utilizzeremo questo testo qui perché questo non so se ci avete fatto caso c'è una parte riservata ai quiz che noi utilizziamo sempre però la prima parte dall'inizio fino a pagina 60 diciamo fino a pagina 43 44 lo dico con precisione fino a pagina 54 è un sunto della teoria che noi abbiamo fatto quindi anche qui troviamo quello che ci serve allora se se prendete adesso lo vediamo su questo qui facciamo un dettaglio però se voi andate su questo libro ce l'avete tutti tu ce l'hai bene allora mettete tu ma noi ce l'hai voi ce l'avete bene allora andate a pagina 35 ci siamo ecco magari paolo scrivetelo a pagina 35 ricevitori allora qua ci stanno gli schemi a blocchi di tutti i tipi di ricevitore che abbiamo fatto va bene quindi tutto quello che abbiamo per ripassare ricevitori e trasmettitori sono tre o quattro pagine qui cosa utilissima appunto per la sinteticità della cosa pagina 35 ricevitore a doppia conversione ricevitore a singola conversione 35 giro pagina 36 schemi a blocchi ricevitore per il cv doppio ricevitore per la m ricevitore per l'ssb ricevitore per l'fm siamo arrivati in fondo alla pagina poi descrizione degli stati seguenti limitatamente agli schemi a blocchi quindi poi qui ci sta amplificatore di frequenza oscillatore variabile di tutti i rettangolini di tutti gli schemi a blocchi che stanno qua per ognuno di ogni singolo blocco c'è la spiegazione va bene e quindi questo uno l'abbiamo fatta c'è data una letta è un ottimo ripasso fatelo poi andando avanti 37 pagina 38 caratteristiche dei ricevitori in forma descrittiva e ci sta la curva di selettività vi ricordate f con 0 i 6 di b eccetera sensibilità stabilità tutte cose che abbiamo detto però qua in cinque pagine ci sono le ultime 6 o 7 lezioni quindi dato che sono poi formative importanti utilizzate pure questo a pagina 39 si parla dei trasmettitori che degli schemi a blocchi dei trasmettitori cioè è la stessa cosa girata da ricevitore a trasmettitori quindi schema a blocchi trasmettitore ssb pagina 39 poi schema a blocchi trasmettitore telegrafico poi girando la pagina trasmettitori ssb e trasmettitori modulazione di frequenza anche qui descrizione degli stati limitatamente agli schemi a blocchi quindi per ognuno di quelli c'è la descrizione va bene? poi caratteristiche dei trasmettitori in forma descrittiva e a pagina 42 dove comincia antenne e linee di trasmissione questo è escluso c'è il tutto quindi voi praticamente se cominciate da pagina 35 e finite a pagina 42 antenne escluse praticamente avete tutto ciò che riguarda da ricevitori e trasmettitori che sono un po' il nocciolo del programma ci capiteranno all'esame? sì ma anche se non capitassero e voi voleste solamente diventare radiattatori queste cose bisogna conoscerle qui c'è un certo livello di conoscenza non è che la cosa viene approfondita e chi sa come parliamoci chiaro forse noi parlandone abbiamo detto pure qualcosa di più però quello che sta qua è la sintesi di quello che serve veramente va bene? ed è il riperbero delle domande cioè le domande vengono fatte chiedendo lo stato quant'è che vuol dire deviazione frequenza lo strato modulazione frequenza che fa ed è tutto quello che è scritto in queste definizioni va bene? allora adesso prendete a pagina 68 qui questo senza che lo ridisegno lo vediamo lo vediamo qua abbiate pietà allora ricevitore per fm f3e vi ricordate ieri vi ho dato la sintesi dei sistemi di indicazione del tipo di emissione allora quando noi prendiamo abbiamo fatto esaminando le caratteristiche di un ricetrasmettitore il 718 l'abbiamo visto ieri e quindi abbiamo visto tutte le caratteristiche e poi io ti posso dire vai in am vai in ssb oppure ti dico vai in f3e quindi va in fm vai in a3 in a1 a3g eccetera sono i vari tipi di cose allora ricevitore per fm f3e stadio di ingresso mixer oscillatore e stadio di if intermediata frequenza immedia frequenza fino a qua è una supereterodina normale chiaro non c'è niente di nuovo sotto il sole poi c'è lo stadio limitatore a pagina 37 di questo testo trovate limitatore ve lo dico subito così poi ve lo andate a leggere che il resto non lo dovete leggere nel ripasso vi capiterà ma è tutte cose che abbiamo fatto anche abbastanza bene a pagina 37 c'è scritto a metà della pagina limitatore il nuovo ricevitore fm il limitatore è lo stadio che precede il discriminatore a modulazione di frequenza e che ha compito di rendere costante il livello del segnale applicato al fine di eliminare eventuali modulazioni a m di studi quindi questo è quello che vi dovete più o meno ricordare quello che capita nelle domande quindi stadio limitatore pagina 37 ci ho scritto sotto sarebbe pagina 37 di quell'altro libro quest'estate se Dio vuole mi divertirò a fare un unico mappazzone così dove c'è tutto quindi invece in tre libri sarà un libro così dove farò fotocopie eccetera ed è più organizzato e gli studenti fra due anni? fra due anni dopo lo stadio limitatore stadio discriminatore il discriminatore è il famoso rivelatore è il foster silly è quello che conosciamo se prendete lo schema di quel ricevitore con tutti i demodulatori che sta a pagina che la possino scaricarlo io a un certo punto ho fatto un unico ricevitore eccolo qua pagina 62 questo è un ricevitore unico che riassume tutti i ricevitori però a livello di demodulatore ci avrà vari demodulatori a secondo del tipo di emissione A1, A3, AF3 eccetera e uno inserisce quello che che vuole utilizzare tenete presente che in questo schema a pagina 68 è ricevitore per FM quindi è uno schema dedicato in questa pagina 62 è come se ci fosse il riassunto di tutti quindi voi vedete a pagina 62 lo schema è un ricevitore a doppia conversione con BFO per AM diodo a cristallo per CW IME ditemi come sopra con aggiunte al BFO per SSB rivelatore a prodotto per FM discriminatore foster silly o rivelatore a pendenza ripeto rivelatore a pendenza è una cosa un po' superata quindi discriminatore se noi ritorniamo a pagina 68 questa è la semplificazione solo per FM qui addirittura il ricevitore a singola conversione c'è un solo oscillatore non ce ne sono due l'unica novità rispetto a quello che sappiamo e che abbiamo saputo fino adesso è lo stadio limitatore cioè in effetti all'uscita della media frequenza io non posso vivere un segnale qualsiasi allo sbatto nel rivelatore quello me va in palla il limitatore dà una tosata dà un controllo e si mette a livelli tali che lo stadio discriminatore il famoso foster silly sia in grado di operare bene quindi nei ricevitori a modulazione di frequenza c'è anche in più prima del rivelatore uno stadio limitatore che fa solo quello passiamo adesso alla pagina successiva trasmettitore per FM quindi trasmettitore per F3E l'indicazione è come sigla è la stessa allora M 2CM microfono amplificatore microfonico oscillatore modulatore eccitatore amplificatore radiofrequenza circuito accordato di accordo in effetti rispetto a un trasmettitore AM l'oscillatore modulatore e l'eccitatore sono le novità sono le cose che non abbiamo mai visto allora se andate sempre su questo ah guarda tu che mi stava scordando allora se andiamo sempre su questo vi faccio vedere solo le definizioni relative a questo qui ma tutti gli altri stati e tutti gli altri ricevitori e trasmettitori sono la somma di tutte queste definizioni quindi corpietro ripassando questo le ripassate tutti e vi vedete i vari schemi allora il trasmettitore in FM sta a pagina 40 è l'ultimo sta a amplificatore microfonico oscillatore modulatore eccitatore amplificatore radiofrequenza circuito di accordo trasmettitore FM pagina 40 è l'ultimo qua l'ultimo scherminio e guarda allora dito lo no allora a pagina 41 nelle varie definizioni la prima qui a pagina 41 modulatore modulatore di frequenza che è l'oscillatore modulatore sta a pagina 41 questo qui la descrizione di questo leggiamolo insieme modulatore di frequenza è uno stadio al quale viene posto in ingresso un segnale contenente l'informazione da trasmettere quindi il microfono e al cui interno viene generato un segnale alla cui frequenza varia in funzione dell'ampiezza del segnale informazione quindi dove viene creata la modulazione di frequenza cioè non si va a variare l'ampiezza della sinusoide ma la frequenza a posto di questo adesso vi aggiungerò un po' di cose per capire meglio se no diventa un po' dopo l'oscillatore modulatore sempre a pagina qui iscriveteci sotto oscillatore modulatore pagina 41 di questo libro poi c'è l'eccitatore che sta a pagina 40 se voi leggete qui dopo lo schema eccitatore e buffer qui pagina 40 è quello che vi dovete ricordare eccitatore va bene? quindi questo ve lo leggete non ci sono problemi cerchiamo di capire bene che cosa avviene dentro un trasmettitore in FM perché poi alla fine bisogna averla digerita la cosa al di là di leggersi quello vi chiarirà tutto non troverete grossi problemi però bisogna anche entrare nel merito vi dovete leggere questa definizione ma io questa definizione dato che è molto particolare ed è una novità assoluta è a pagina 42 c'è scritto deviazione di frequenza la deviazione di frequenza sta solo sui trasmettitori di FM che cosa significa in sostanza modulazione di frequenza allora io ho la portante che è 100 mega modulazione di frequenza dice ma sto trasmettitore quando modula la frequenza cioè varia la frequenza che va da 90 a 150 no non è possibile perché altrimenti la deviazione di frequenza cioè lo sbandamento rispetto alla frequenza di riferimento deve essere contenuto entro una dimensione accettabile perché se no se io vado al canale a fianco che faccio sento quello quando modulo allora la deviazione di frequenza lo spostamento della frequenza di riferimento qui diciamo ho radio latina 1 101 megahertz va bene la deviazione di frequenza rispetto a questa frequenza che è f con 0 la frequenza di trasmissione deve essere uno spostamento avanti o indietro perché modula in frequenza quindi la frequenza si deve spostare più strillo e più devia cioè più si allontana dalla frequenza fondamentale quindi la bassa frequenza si riverbera sulla quantità di deviazione però la deviazione deve avere un limite il limite normalmente è più o meno 30-35 mila hertz quindi io devo arrivare a una deviazione massima intorno ai 75 che significa che f con 0 101 l'altra stazione starà a 101 1 o a 101 2 3 quindi la distanza fra le due da qua a qua deve essere 100 kilohertz perché lui rispetto alla frequenza di riferimento sbanda per una deviazione totale di 75 quindi diciamo scriviamo 80 per per praticità 40 di qua e 40 di là se questo sbanda 40 di qua e 40 di là c'è un canale vuoto di 20 kilohertz che mi fa da frequenza di riferimento mi fa da separazione fra i due quindi che cos'è la deviazione di frequenza l'indice di deviazione di frequenza è l'indice che ci dice di quanto si sposta la frequenza di centro banda rispetto a se stessa in funzione dell'entrata in azione dalla modulazione quindi io parlando se strillo di più c'è quindi la potenza in bassa frequenza diventa funzione dello sbandamento dello spostamento a destra o a sinistra rispetto alla frequenza di riferimento quindi la deviazione tecnici vado a dire perché qua si chiacca la deviazione di frequenza quindi è l'indice di modulazione se vogliamo quant'è la massima deviazione permessa massima deviazione permessa dipende anche dalla canalizzazione allora i radioamatori sono partiti da 25 ogni canale è chiaro che il canale se la deviazione è maggiore il canale deve essere più largo un canale di questi intorno ai 100 kHz de meno ma insomma 100 kHz se io ho un lettore preciso magari digitale mi metto sulla frequenza di riferimento sposto a destra o a sinistra devo più o meno sentire ancora la stazione a un certo punto me si chiude e passo a una zona bianca e dopo viene l'altra questo lo potete fare con qualsiasi ricevitore per le radio private ve ne accorgete allora la la deviazione di frequenza è funzione dell'ampiezza della banda di bassa frequenza da trasmettere se io devo trasmettere la voce umana mi abbassano 3000 Hz 4000 allora i radioamatori che usano canali da 12,5 kHz prima era 25 ora è diventato 12,5 meno di quello non si può scendere io che trasmetto l'alta vedertà e allora a me mi servono 70-80 kHz perché ho da 0 a 30 canale destro da 0 a 30 canale sinistro e da almeno 60 per poter trasmettere correttamente tutte le frequenze audio che fanno modulare la portante la deviazione di frequenza come abbiamo visto molte volte se io modulo in ampiezza è chiaro che c'ho una cosa del genere questa è DSB doppia modulazione in cui questa è la bassa frequenza e questa dentro è la portante quindi radiofrequenza se invece vado in FM è chiaro che non ci saranno avvallamenti è tutto pari però il diagramma è di questo tipo sto esagerando eh cioè modulazione di frequenze significa che l'ampiezza è la stessa ma cambia il rapporto tra le varie onde rispetto alla deviazione rispetto a quest'asse ho deviato tanto a destra tanto a sinistra quindi rispetto a questo che è non modulato qua quando è modulato si allarga e si stringe in funzione di come del messaggio che gli do quindi la massima deviazione è intorno ai 75 per le radio private è chiaro che nel nostro sistema radio motoriale la massima deviazione è 12,5 sul canale è quello se io devio di più vado a rompere i cosi e a fianco insomma quindi ecco volevo che voi prendessi il concetto di questo qui per capire che vuol dire deviazione che sulla deviazione poi ci mette tre righe leggetevelo però bisogna capirlo bene se no così è pura barzelletta allora chiudiamo questo chiudiamo questo considerate che abbiamo fatto molto presto e